Salvo sorprese uscirà a fine mese il bando di concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di oltre 200 persone da impiegare nei vari uffici della ricostruzione post-terremoto, accompagnato da una serie di polemiche. In base agli accordi presi col governo, il 50% dei posti dovrebbe essere riservato ai precari che vi abbiano già lavorato in questi tre anni. A scatenare le ire di sindacati e opposizione, l'intenzione dell'amministrazione comunale di far rientrare nella riserva sia i dipendenti assunti con il concorso che si svolse nel 2010, sia quelli assunti per chiamata diretta, come i portaborse dei politici. Il sindaco Massimo Cialente, dopo aver strenuamente difeso questo orientamento insieme all'assessore Betti Leone, oggi sembra fare un passo indietro, annunciando che tutti i precari dovranno sottoporsi alle preselezioni. Era stata rifondazione, l'ultima in ordine di tempo a chiedere che gli staffissi non godessero di alcun privilegio. Prima del partito, i consiglieri del centrodestra, l'UGL e vari movimenti civici, adombrata anche l'ipotesi illegittimità, visto che una sentenza del Consiglio di Stato ribadisce il principio di parcondicio tra concorrenti nei concorsi pubblici. In ogni caso, saranno ora Ministero e Formez a stabilire i criteri di accesso alla selezione.